Coach Antonio Valentini, abbiamo detto con Marra e Zucoschi, squadra pressoché perfetta stasera contro Siena. Sì, sono ovviamente molto contento di come abbiamo giocato stasera, anche perché venivamo da un momento di difficoltà. C'è stata una bellissima risposta da parte di tutta la squadra in questi giorni di difficoltà, anche negli ultimi allenamenti, quindi sono ovviamente contento. Bisogna ripartire proprio da questa vittoria, da questa prestazione per le prossime partite, ce n'è una fra due giorni? Assolutamente sì, ripartiamo da questa vittoria qui, sappiamo che già domenica andiamo in un campo molto difficile come quello di Milano, però noi non, come abbiamo detto più volte, non ci possiamo permettere di fermarci neanche un secondo. Ripartiamo con l'obiettivo di fare il meglio possibile a Milano. Quasi l'80% in attacco nel primo set, oltre il 70% nel secondo, un gioco che è stato facilitato da un'ottima ricezione. È Zucoschi che si è divertito a far attaccare i suoi dal centro, da tutte le posizioni. Sì, sì, sicuro Zucoschi ha fatto, secondo me, un'ottima prestazione, ma devo loggiare la squadra, perché lo si è visto soprattutto nelle fasi, secondo me, di murro difesa, che la squadra c'era e che abbiamo giocato con molta attenzione e con un chiaro obiettivo in testa, che era quello di vincere la partita di questa sera.